Un benvenuto a tutti sul mio canale. Oggi è una bellissima giornata e le temperature non sono rigidissime e c'è un bel sole per cui in questa bella e soleggiata giornata voglio parlarvi di una novità altrettanto bella che abbiamo su una serie davvero emozionante che ha attirato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo e che stanno attendendola. Stiamo parlando di El Turco, una serie che presenta un cast composto da attori provenienti da diverse parti del mondo. Abbiamo infatti l'elenco degli attori provenienti da Turchia, Italia, Portogallo, Inghilterra, Irlanda, Svezia, Croazia e Repubblica Ceca per un totale di otto nazionalità diverse. Disney Plus ha reclutato questi attori per far sì che la serie fosse di successo internazionale. e quindi girata interamente in lingua inglese. Ma prima ricordate di iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità della serie turche e degli attori turchi che preferite. Iniziamo con il protagonista maschile, Jean Yaman, che in questa serie darà il meglio di sé in un lavoro registrato in lingua inglese per la prima volta. E infatti ha dovuto perfezionare il suo inglese e studiarlo per ore ed ore, oltre a mettere a dura prova le sue capacità fisiche, che come vediamo dal suo video in Instagram ha dovuto lavorarci veramente sodo. Accanto a lui c'è Greta Ferro, la 27enne coprotagonista, che è un'attrice e modella nota per i suoi lavori in Made in Italy, Weekend e il cortometraggio dei Marchi Armani. Andiamo avanti con Maddalena Aragão, un'attrice portoghese, diciassettenne, nata il 25 agosto 2005 a Lisbona, che parla fluentemente la lingua e che ha registrato ben tre serie e tre film solo nel 2022. Infine c'è l'attrice e modella inglese Cy Bennett, 30 anni, che ha già fatto parlare di sé grazie al suo lavoro in The Spanish Princess, una serie su Netflix che ha un sequel in arrivo. Volevo aggiungere una parentesi. Questa serie, per gli appassionati di storie su re, regine, signori, troni e Tudor, sarà un vero e proprio tesoro, ma sono sicura che è stata aspettando tutti trepidamente l'uscita di questa serie. Uomini e donne indifferentemente dal momento in cui il cast è formato da volti noti anche in altre serie e film passate che hanno avuto un successo a livello mondiale. Passiamo però adesso agli uomini del cast. Oltre al nostro bravissimo ed affascinante Jeanne Yaman, citato sopra, troveremo Kierakko Reilly, che è un attore, musicista e produttore irlandese, noto per il suo lavoro in Viking. Una serie di successo con molto sangue e di genere storico e azione drammatico e avventura disponibile su Prime Video e Netflix. Magnus Samuelson, invece, svedesi, 53enne, che ha ottenuto la vittoria nel concorso World Strongest Man in Marocco ed è stato votato l'uomo più forte al mondo ben cinque volte, raggiungendo la finale per dieci volte. Il suo ultimo lavoro televisivo è stato in The Last Kingdom. Willy Kemp, altro membro del cast, è un attore britannico, ha recitato in diversi film di successo, tra cui Van Helsing e Slumbler, il demone del sonno. Slado Sobin, invece, è croato e ha preso parte un episodio della famosissima serie Game of Thrones. Siamo sicuri che questa serie vi lascerà a bocca aperta e ne sarete veramente rapiti. Siete pronti a immergervi in questa avventura emozionante? Ma non è finita qui, perché abbiamo David Nickel, noto per il suo ruolo di supereroe nella serie di C. Arrow e Nigel Pickenton, attore, cantante e sceneggiatore inglese, conosciuto per i suoi lavori per i bambini e per il suo ruolo nel film Kingsman. Ma diciamoci la verità, se non ci fosse stato Jeanne Yaman, questa serie non avrebbe attirato così tanto la nostra attenzione e curiosità, vero? E voi? Che preferireste tra questi attori? Scrivetemelo sotto nei commenti e fatemi sapere se guarderete questa serie tanto attesa in uscita a fine 2023. Io continuerò a tenervi aggiornati sulle novità, quindi non dimenticate di lasciare un vostro like e di attivare la campanellina e poi ci vediamo al prossimo video. Ciao!